Haru Troutare, pensato e progettato per soddisfare le esigenze dei pescatori che richiedono performance ad alto livello. Il peso estremamente contenuto in un rapporto di recupero pari a 4 e 5 a 1 rappresentano le caratteristiche perfette per gli avanti del Troutare e non solo. 8 più 1 cuscinetti a sfera, bobina di ricambio in grafite, manovella ergonomica in metallo ultralight, bobina in alluminio, sistema CBR. Tecnologia pura, made in Omura. Omura Spinning Obsession